Ciao ragazze! Se mi seguite sulla mia pagina Facebook sapete che qualche giorno fa avevo scritto un post per cercare qualche idea nuova, per fare un tutorial. Vi avevo chiesto qualche consiglio e una di voi mi aveva scritto che avrebbe voluto vedere un tutorial ispirato al colore dell'anno, il Radiant Orchid, che se non lo sapete è una sorta di lilla rosato. Comunque mi è sembrata un'ottima idea e ho deciso di realizzare questo trucco che secondo me è anche super primaverile e sui toni di lilla, di rosa, leggermente viola, ha fatto un po' una sfumatura. Quelle labbra ho deciso di farle anche queste sul rosa corallo, magari può sembrare un po' troppo Barbie, se non vi piace vi consiglio di eliminare il rosa dalle labbra e magari applicare un luce della labbra trasparente o cambiare proprio colore. Comunque spero che vi piaccia, fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate e ricordatevi di votare il video col pollice in su se vi è piaciuto. Ecco il tutorial! Applico un matitone bianco in crema su tutta la palpebra mobile e anche su quella fissa. Dopo aver sfumato bene l'ombretto in crema, prendo un ombretto in polvere color panna e lo applico nei punti luce, quindi sotto l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno dell'occhio. Poi prendo un color lilla chiarissimo e lo applico sulla palpebra mobile con un pennello piatto. Delineo la piega dell'occhio con un ombretto marrone e un pennello di sfumatura molto grande. Dal momento che l'ombretto è molto pigmentato lo vado a sfumare con un pennello pulito. Adesso prendo un color lilla viola intermedio e lo applico sulla palpebra mobile lungo la linea ciliare, restando comunque un po' verso l'esterno. A questo punto prendo un color viola molto molto chiaro, quello che ho utilizzato prima, e lo applico di nuovo nella parte interna dell'occhio per fare un po' una sfumatura. E invece con questo fucsia molto acceso sfumo la piega esterna, la parte esterna dell'occhio. Prima con un pennello piatto e poi con un pennello a penna dalle setole molto morbide, come vedete qui. Deve essere comunque tutto un gioco di luci ed ombre, quindi vado a sfumare bene e a ridefinire bene tutti i dettagli successivamente. A questo punto prendo un viola proprio intenso, proprio una punta, deve essere una punta di viola, e lo applico nella parte più esterna dell'occhio per dare uniformità, per dare dimensione all'occhio e allo sguardo. E sfumo. Riprendo il color marrone che ho utilizzato inizialmente nella piega dell'occhio e lo applico nella parte esterna della palpebra inferiore con un pennellino angolato. Nella parte interna invece applico il color pan che ho applicato anche questo all'inizio sotto l'arcata sopraccigliare. Ora è la volta del nero, quindi con un pennello sempre angolato vado a fare, a tracciare una sorta di eyeliner. Con un ombretto molto chiaro perlato vado a illuminare un po' questo trucco, quindi delineo l'arcata sopraccigliare, quindi sotto l'arcata sopraccigliare, e poi lo applico nella parte interna dell'occhio, quindi della palpebra mobile. Applico il mascara bene su tutti i due occhi, faccio un po' di passate. E passo alla base. Sul viso applico una terra con un pennello angolato e scolpisco bene il volto, quindi lo passo sotto i zigomi, i lati della fronte, un po' i lati della mascella perché la mia è leggermente squadrata. e sfumo bene, 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 bene. Ora applico un blush color pesca sui zigomi utilizzando sempre comunque un pennello angolato, abbastanza piccolo. Il pennello sceglietelo in base alla grandezza del vostro viso. Poi, successivamente, siccome mi accorgo che il risultato è un po' troppo pescato rispetto al trucco, rispetto ai colori che ho utilizzato nel trucco degli occhi, quindi prendo questo color rosa, un pochino più freddo, e lo applico sopra. e smorzo un po' il pesca. E' la volta dell'illuminante che applico con il mio solito pennello a ventaglio sopra gli zigomi, un po' al centro del naso, nell'arco di cupido, al centro della fronte. e un po' sul mento. Adesso applico un color rosa, un rossetto color rosa proprio Barbie. Se non vi piace potete anche utilizzare un semplice gloss o un rossetto di una colorazione diversa. Io applico prima questo e poi smorzo, anche in questo caso il colore, però con un rossetto color pesca. Quindi qua faccio il contrario rispetto a quanto ho fatto sui zigomi. E il trucco è finito. Questo è il risultato finale. Spero che vi piaccia. Come al solito, se vi è piaciuto vi invito a cliccare mi piace, quindi a mettere il pollice in su sotto il mio video, lasciarmi dei commenti per farmi sapere cosa ne pensate, aggiungermi anche sui social network e iscrivervi al mio canale se ancora non lo siete. Vi lascio qui anche i miei video precedenti e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!